Sono iniziati i lavori di recupero e restauro degli stemmi araldici che si affacciano sulla centrale piazza Carrara di Monte Carlo, esposti sulla facciata dell'ex istituto pellegrini carmignani. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Tucci di Pistoria, già protagonista di altri interventi nel centro storico, tra cui quello più recente del restauro del monumento ai caduti, e riguarderanno gli stemmi araldici giuntici fino ad oggi che contribuiscono a raccontare il succedersi storico delle famiglie che hanno servito la Municipalità di Monte Carlo, in qualità di vicari e con altre nomine dal momento della sua fondazione nel 1333 per mano di Carlo IV di Bohemia. Tra esse spicca anche l'aquila imperiale, simbolo per l'appunto del potere temporale di Carlo IV, che fu, come raccontano le croniche contemporanee, di ispirazione negli anni 60 del secolo scorso per i produttori del vino locale, che utilizzarono lo stemma per il bollino che conte a distingue i vini doc di Monte Carlo. Al termine dei lavori sarà avviata anche la nuova illuminazione della facciata del palazzo predisposta sul pavimento della piazza Carrara. L'intervento si inserisce nella serie di iniziative promosse dalla giunta guidata dal sindaco Fantozzi per celebrare 680 anni della fondazione di Monte Carlo e nella più ampia opera di riqualificazione del centro storico avviata dall'amministrazione.